eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giugio juve buona domenica ragazzi dobbiamo in questo video parlare dell'italia perché naturalmente ragazzi gli europei sono cominciati e per quanto uno voglia metterli in secondo piano per quanto vuoi disinteressarti a queste cose resta comunque l'evento che in questo momento è preeminente su tutto il resto anche perché il calcio mercato passa sicuramente nel secondo piano le trame dell'inter ci saranno sempre e saremo sempre lì maggiormente con gli occhi puntati a guardare gli imbrogli che andranno a fare però naturalmente dobbiamo anche parlare di questo europeo che al mio modo di vedere nella partita di ieri sera della nazionale italiana ci dice una cosa fondamentale che questo sarà un europeo che non porterà niente di buono però prima di spiegarvi in che senso non porterà niente di buono dovete capire prima qual è il buono per me e cosa cerco io da questo europeo quindi ne parliamo insieme in questo video ma prima di tutto vi chiedo un like a questo contenuto l'iscrizione al canale perché è gratis se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratuitamente perché più siamo più la nostra voce di protesta e di controinformazione arriverà lontano più riusciremo a farci sentire più riusciremo a coinvolgere persone nel nostro modo di vedere ragazzi perché è chiaro palese lampante lo schifo che sta succedendo nel calcio italiano ma non tutti sono così attenti e così svegli da voler vedere realmente quello che succede in tanti ragazzi bisogna spingerli perché come si è sempre detto il popolo è un popolo come dire di pecora ma non perché siano stupidi perché siano abituati ad ascoltare per inerzia ciò che i media convenzionali ci propinano per realtà quindi al popolo alle volte bisogna spiegargli ciò che c'è scritto tra le linee tra le righe delle informazioni andare a far capire ciò che ti riportano rispetto a ciò che è reale quindi importantissimo iscrivetevi e azionate il campanello delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto quello che andrà a produrre su questo canale l'italia 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 ragazzi partiamo da un assunto io vorrei tifare contro questa nazionale vorrei che questa nazionale perdesse perdesse in malo modo venisse eliminata al primo punto dagli europei non perché non sono italiano non perché io non sia nazionalista come dire legato ai colori del non nazionalista non lo sono però ecco legato ai colori di questa nazione legato alla mia nazione orgogliosa di essere italiano sono tutte queste cose il problema è che questa nazionale è l'espressione dei vertici del calcio italiano cosa che io sto combattendo la sera prima della partita chi va a fare visita alla nazionale va a fare visita il buon beppe marotta ragazzi il buon beppe marotta questa nazionale è espressione dell'inter perché espressione di tanti calciatori dell'inter questo ragazzi non è assolutamente qualcosa di negativo di suo io non ce l'ho con i calciatori dell'inter c'è per me barella è un ottimo calciatore bastoni è un ottimo calciatore io se critico quello che succede in campo all'inter non è perché ritengo che i calciatori dell'inter siano scarsi al contrario che l'inter abbia la rosa più forte della serie a ma che allo stesso tempo l'inter sia tutelata tutte le partite abbia un episodio in favore tutte le partite e che quindi questi calciatori non siano così più forti degli altri come ci vogliono far credere questa è la realtà detto questo questa è anche la nazionale di marotta anche di gravina che è il lecca piedi e il lecca piatti di marotta quindi ragazzi non posso essere soddisfatto di quella che è la governance c'è del resto però ragazzi che come vi ho spiegato io sono italiano e quindi te parti col volerti fare contro questa squadra poi inizia a guardare la partita e succede com'è non so ragazzi torniamo indietro nel tempo quando siamo ragazzini per fare un episodio per farvelo capire quella ragazza che magari ti ha trattato male che tu dici questa qui la tengo alla lag se la beccola mi vendico gli fa faccio io del male a lei poi ti guarda negli occhi dice meglio che gli sto alla lagga perché questa mi fa del male di nuovo perché poi è così e questa nazionale è un pochino così ragazzi è un pochino naturalmente io voglio con la testa con la razionalità di fare contro questa nazionale voglio che questa nazionale vada fuori al primo turno dell'europeo però se inizi a guardare la partita poi è normale e non dovrebbe essere normale ma succede succede che io inconsciamente tifi per l'italia ragazzi perché purtroppo è una condizione naturale la mia quella di tifare per l'italia nonostante ci siano tanti calciatori dell'inter nonostante ci sia gravina che che mi fa schifo e è ciò che ritengo quando dico che questo europeo non porterà niente di buono è esattamente quello che c'è in mezzo perché tra il tifare contro e il tifare a favore c'è qualcosa in mezzo tifare contro non è perché io voglio vedere l'italia arrivare in finale perdere miseramente questo mi farebbe male io vorrei vedere l'italia andare fuori al primo turno perché un'eliminazione dell'italia al primo turno potrebbe far cadere la governanza del calcio potrebbe far fuori gravina anche se gravina ragazzi come vi ho spiegato non è il male del calcio gravina è un testa di legno messo lì ma quello che comanda il calcio è quello che l'altra sera ha fatto visita alla nazionale non è gravina quindi gravina è un fantoccio che verrebbe sostituito esattamente come non lo so come il presidente della coviso che se n'è andata via la panzironi ed è arrivato miele poi faremo un video apposto ragazzi purtroppo tra i tanti argomenti sto saltando questa cosa ma vi giuro che nella giornata di oggi uscirà un video che parlerà di questo detto questo ragazzi a mio modo di vedere questa nazionale non è così scarsa alla fine dei conti quello che ho visto dalla partita di ieri non è così scarsa da uscire al primo turno ma non neanche così forte da poter fare un grande europeo quindi che cosa succederà soprattutto non tanto per la partita dell'italia perché secondo me l'italia ha fatto il suo e niente di più contro un'albania che è una squadra scarsa davvero ma quello che mi ha fatto paura è vedere quella croazia ecco la croazia davvero è scarsa ragazzi davvero non può insidiare l'italia croazia è poco più dell'albania certo che se l'italia gioca come ieri sera se di marco che non è un fenomeno se lo togli dalla serie a e dal contesto marotta lì ecco fa quelle cagate lì insieme a bastoni e allora e allora tu puoi andare in sofferenza con la croazia ma siccome questo europeo ci sono 24 squadre ragazzi e ne passano 16 agli ottavi di finale c'è tutte le prime tutte le seconde e le quattro migliori terze sarebbe un'impresa per l'italia sarebbe un'impresa epica andare fuori al primo turno sarebbe un'impresa epica riuscire a non entrare nelle prime 16 ecco avendo soprattutto nel giro una squadra come l'albania che ti ha regalato già i tre punti adesso a questa italia basta pareggiare quanto meno con la croazia e perdere meno di 3 a 0 con la spagna e l'italia è già matematicamente qualificata come seconda se poi l'italia perde con la croazia e riesce a contenere il risultato con la spagna l'italia può passare come miglior terza quindi ragazzi è difficile per l'italia andare fuori ed è difficile per gravina fare una figuraccia che gli porti il tracollo e quindi diciamo lo costringa lo costringa a dimettersi detto questo ragazzi detto questo è difficile anche che questa italia vada avanti perché se ha delle buone individualità e a proposito ragazzi a proposito io sono uno che ha sempre detto giuntoli non deve spendere soldi in italia in italia vogliono troppi i soldi della juventus non devono girare in italia ma calafiori ragazzi per calafiori bisogna fare un'eccezione calafiori serve alla juventus la juventus deve prendere calafiori calafiori è uno che ha potenzialità enormi ragazzi non sto dicendo che nesta ma calafiori è un calciatore che alla juventus serve come il pane per italianità per modo di essere perché è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale in un anno è un uomo di tiagomotto quindi detto questo calafiori ci serve l'italia ha delle buone individualità è bravina nei due centrali difensivi ha un ottimo quartiere a mio modo di vedere che ha dei difetti in uscita alta ma che ieri all'ultimo minuto su manai salva la partita perché se non la chiudi la partita puoi pareggiare anche con l'albania ha secondo me un ottimo un ottimo allenatore che tra l'altro pur avendo un passato da interista da romanista e da napoletano quindi sempre avversario della juventus insomma ispira simpatie quindi ispira simpatie secondo me a barella e frattesi che sono dei buoni calciatori non barella ottimo frattesi un buon calciatore ma niente di che non fenomeni a chiesa che quando si accende fa la differenza a qualsiasi livello problema di chiesa che la continuità vedere se riesce ad accendersi nei momenti giusti a fare la differenza cose che invece facciamo fatica a fare in in attacco dove abbiamo dei centravanti normali scamacca e reteghi sono dei buoni centravanti da serie A dei due tecnicamente preferisco scamacca perché è più forte ma come mentalità come aggressività come uomo da torneo che riesce a sentire la partita e se riesce a fare qualche secondo me più forte reteghi perché reteghi è uno che se si esalta magari è uno che ti fa l'europeo alla schillaci o alla paolo rossi questa poi è una sensazione magari sbaglio ragazzi magari sbaglio ciò che non mi piace e lorenzo pellegrini secondo me un giocatore che non deve mai giocare titolare l'italia meglio tirarlo via e mettere un esterno preferirei vedere titolare el sharawi ma questo è il mio modo di vedere per il resto ragazzi l'italia è una squadra che contro quella spagna con la qualità che ha quella spagna con le capacità e diciamola anche l'esperienza che quella spagna difficilmente può far la differenza quella rabbia che hanno i tedeschi con tutti quei ragazzi terribili perché poi è vero che ha una squadra che è un ottimo mix la germania tra campioni affermati e giovani che stanno esplodendo quindi secondo me l'italia difficilmente potrà fare tanta strada nell'europeo come difficilmente potrà andare fuori il primo turno e gravina salverà di nuovo il culo ecco ragazzi questo è esattamente quello che io penso di questa nazionale fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come state vivendo voi questo europeo come avete sentito sulla pelle la sensazione della prima partita perché poi ragazzi come vi ho spiegato tra il dire le cose e farle c'è sempre una differenza quindi io sono partita volendo tifare contro la nazionale col proposito di tifare contro la nazionale onestamente ieri sera ho fatto fatica a tifare contro la nazionale perché poi bisogna dire la verità ragazzi nella vita perché la verità è sempre quella è sempre quella che ti porta a diciamo a non sbagliare mai perché se io provo a fare una cosa ma alla fine il mio cuore dice cose diverse è giusto che io ne parli con voi visto che siete la mia community visto che mi avete sempre capito finora fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine contro tutti e tutti sempre e comunque forza juventus grazie a tutti